Un contatino, brutto, zozze e ignorante, doveva guardarsi la partita insieme a un amico. Allora decide di andarsi a comprare una bandiera dell'Italia. Esce ed entra in un negozio. Buongiorno! Buongiorno signore, mi dica, vorrei una bandiera dell'Italia. Certo signore, ne abbiamo di tanti tipi. Come la preferisce? Piccola? Grande? Allora risponde il signore. No, me ne dia una gialla. Ma signore, guardi che gialla non esiste. Ah no, certo, le bandiere dell'Italia sono solamente verdi, bianche e rosse. Ah, ho capito, allora me ne dia una verde. Ui, 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 ui.